La DNA ligasi è un'enzima che ritroviamo in un sacco di processi cellulari diversi, che però hanno tutti come, diciamo, base comune il DNA. Infatti la sua funzione qual è? È quella di legare due semifilamenti, o due, diciamo, strand di DNA, tra loro, formando un, catalizzando la formazione di un legame fosfodiestre, tra il 3'H di un desosseo imonucleotide a monte e il 5' fosfato di un altro desosseo imonucleotide, ma a valle questa volta. Catalizzando questa reazione, promuove quindi la ligazione di due filamenti di DNA, di due semifilamenti o di due filamenti double strand di DNA, portando alla, tra virgolette, ricucitura del DNA. Perché è importante? Beh, perché semmai dovesse, per qualunque ragione, mantenersi questo, questa rottura a singolo filamento o addirittura a doppio filamento, beh, allora noi avremmo enormi problemi nella replicazione del DNA, perché l'informazione che verrebbe replicata sarebbe mutila, ok? O soprattutto almeno su uno dei due filamenti. Allora, la DNA ligasi è un enzima che si ritrova sia nei batteri che negli eucariotti. Questo ti fa capire che è un enzima che è filogeneticamente conservato ed è quindi fondamentale, infatti è coinvolto in diversi processi cellulari. Lo vedremo meglio adesso parlando delle diversi tipi di DNA ligasi. Se noi prendiamo un batterio, la molecola in realtà è uguale, cioè la DNA ligasi, che è un enzima, quindi è una proteina, è uguale sia nei batteri che negli eucariotti. La struttura primaria è quella, cambierà magari qualche aminoacido. Che cosa cambia però? La vera differenza è il cofattore, ossia una molecola che aiuta la DNA ligasi a essere più energetica. Questo cofattore, che può essere l'ATP o il NAD+, rispettivamente l'ATP viene utilizzato dalla DNA ligasi degli eucariotti e nel caso dei virus, comunque questo facciamo un discorso a parte sui virus che faremo alla fine del video, e poi il NAD+, quindi l'ATP, che è il cofattore, viene utilizzato dagli eucariotti, dalla DNA ligasi degli eucariotti. Il NAD+, invece, che è il nostro cofattore ossidato, viene utilizzato dalla DNA ligasi batterica. Ok? Benissimo. Vediamo un dettaglio. Allora, negli eucariotti la DNA ligasi non ne abbiamo solo una, ma abbiamo diverse isoforme. Cosa sono le isoforme? Sono fondamentalmente forme diverse dello stesso enzima, della stessa proteina. Le isoforme possono essere o tessuto specifiche o funzioni specifiche. Mi spiego. Una stessa proteina può avere una diversa, diciamo, funzione, a seconda della localizzazione cellulare in cui si trova. Mi spiego, eh? Negli eucariotti noi abbiamo diverse DNA ligasi che vengono numerate dalla 1 alla 4. La DNA ligasi 1, per esempio, ha la funzione di legare due frammenti di okazaki insieme. Cosa sono i frammenti di okazaki? Lo vediamo velocemente, poi lo capiremo meglio più avanti in altri video. Comunque, tu sai che la replicazione del DNA, adesso te lo faccio male, ok, la replicazione del DNA avviene in modo asimmetrico, cioè su uno dei due filamenti, quello che viene detto filamento lento o filamento lagging, la replicazione del DNA avviene formando questi oligonucleotidi che si chiamano filamenti di okazaki o frammenti di okazaki. La DNA ligasi ha la funzione di unire questi frammenti di okazaki tra loro. Chi? Negli eucariotti. Di chi è il compito? Della DNA ligasi, sì, ma quale? La 1, ok? Quindi la DNA ligasi 1 ha il compito fondamentale di unire i frammenti di okazaki tra loro e anche in realtà il pic oligonucleotide che va a sostituire il primer a RNA sempre durante il processo della replicazione. Un altro tipo, un'altra isoforma di DNA ligasi è la DNA ligasi 3 che è coinvolta nei processi in realtà di riparazione vera e propria del DNA dovuti a agenti esogeni, ok? Un altro tipo di DNA ligasi è la DNA ligasi 4. La DNA ligasi 4 è coinvolta in un tipo particolare di, fondamentalmente, riparazione dei processi di ricombinazione. Nelle cellule, in un tipo particolare di ricombinazione, quella che viene detta ricombinazione BDJ, in un particolare tipo cellulare, che sono i linfociti T e B, abbiamo un tipo di ricombinazione che fondamentalmente consiste nell'unione di diversi frammenti genetici del DNA per portare alla formazione di un nuovo mRNA che viene tradotto e porta alla sintesi di una proteina che si chiama rispettivamente T cell receptor, nel caso di linfociti T, e B cell receptor. Comunque sono dei recettori dell'immunità adattativa che vedremo poi più avanti. Comunque, capisci che tre diverse isoforme, quindi proteine che hanno la stessa funzione, ma una diversa struttura primaria, sono coinvolte, compiono la stessa identica reazione, la catalisi di un legame fosfo di estere, ma in tre diversi processi. DNA ligasi 1, la sintesi, l'aggiunzione dei frammenti di Okazaki, la 3 nella riparazione del DNA, la 4 nella ricombinazione BDJ. La ricombinazione BDJ, ti dico solo questo, è un processo che avviene solo nei linfociti B e T, nelle altre cellule, tipo non so, un fibroblasto non avviene. Allora, nei batteri invece la DNA ligasi, che io sappia, è coinvolta soltanto nei processi di replicazione del DNA e probabilmente anche nei processi di ricombinazione, che probabilmente questi processi di ricombinazione avvengono, per esempio, dopo i trasferimenti genetici, come la trasformazione, ma questo è un dettaglio. La cosa importante da ricordare è che negli eucarioti abbiamo questi tre tipi di DNA ligasi e che, questo è fondamentale, abbiamo un cofattore diverso, a seconda che stiamo parlando di batteri, e in questo caso abbiamo il NET+, o a seconda che stiamo parlando degli eucarioti, e a questo punto abbiamo l'ATP. Quindi, vediamo la funzione molecolare della DNA ligasi, vediamo la reazione, proprio. Allora, la reazione, questa volta è un po' particolare, e qua farò, mi dilungherò come al solito. Comunque, si può dividere in tre tappe. La prima tappa, in cui abbiamo l'attivazione della DNA ligasi. La DNA ligasi, te l'ho disegnata come questo qui, questo semicerchio qua, che presenta un residuo, ti ho messo in evidenza un residuo di lisina, un amminoacido fondamentale, che è l'amminoacido critico che è coinvolto in questa prima tappa della reazione. Comunque, in questa prima tappa, te lo spoilerò, poi dopo lo vediamo nel dettaglio, abbiamo l'attivazione dell'enzima. Cosa vuol dire? Allora, l'attivazione degli enzimi, in realtà, è un processo comune nella biochimica. E in questo caso, l'attivazione cosa significa? Significa il trasferimento da un cofattore, in questo caso l'ATP, stiamo parlando del meccanismo di reazione tipico degli eucarioti. Quindi, dicevo, l'attivazione è il trasferimento di un gruppo reattivo da un cofattore su una proteina, su un'enzima o su un substrato. In questo caso, qual è il gruppo reattivo che trasferiamo? Il gruppo reattivo è l'AMP. L'AMP che cos'è? È una struttura che è formata dal ribosio, dall'adenina e da un gruppo fosfato. L'AMP sta per adenosina monofosfato. L'adenosina non è altro che il legame covalente tra il ribosio e l'adenina. Quindi, nella tappa 1, abbiamo fondamentalmente la formazione del, quello che viene detto, AMP lisina. Dopo, comunque, ci capiamo. Il secondo step che cosa prevede? Beh, finalmente prevede il... Finalmente. Il secondo step prevede il legame dell'AMP da dove? Dal DNA ligasi sul nostro filamento di DNA. Perché il nostro filamento di DNA, vedi, ha le due unità, 3'H e 5' fosfato. Questo AMP, questa molecola di AMP qua, che ti ho fatto in verde, non viene trasferita sullo DNA ligasi e basta. No, poi viene trasferita anche a livello dell'interruzione. Poi, nella seconda tappa, quindi, abbiamo questo processo fondamentalmente che prevede la vera e propria reazione. Ossia, prevede l'attacco nucleofilo del 3'H sul 5' fosfato, con la liberazione nell'ambiente di questa molecola di AMP. Oh, e qua mi voglio soffermare, prima di parlare poi di tutto il resto. In questo processo qua, in questa seconda tappa, che cosa succede? Allora, noi abbiamo legato la nostra molecola di AMP al fosfato al 5' perché è un ottimo gruppo uscente. Cioè, un'ottima molecola, la definizione di gruppo uscente, è una molecola che, una volta che è stata, tra virgolette, liberata dal suo legame, una volta che è stato rotto il legame covalente con il substrato, una volta che questa molecola è nell'ambiente, lei è stabile. Quindi è un ottimo gruppo uscente. Quindi per quello utilizziamo l'MP legato al 5' fosfato per permettere il legame, dal punto di vista energetico, per permettere il legame covalente del 3'H sul 5' fosfato. E qui hai il nostro prodotto. Quindi vediamo nel dettaglio velocemente. La lisina è questo amminoacido qua che ti ho disegnato, come ti dicevo prima, e vediamo un attimo com'è fatto. Allora, come tutti gli amminoacidi, presenta un carbonio alfa. Un carbonio alfa che è legato a un idrogeno che si trova in tutti gli amminoacidi, un gruppo amminico, anche lui in tutti gli amminoacidi, e poi un gruppo carbossilico, che qua non ti ho scritto perché forma il legame peptidico con un altro amminoacido. E poi, cosa abbiamo? Questo qua, che cos'è? È il gruppo R, ossia il gruppo che rende un amminoacido diverso dall'altro. Il gruppo R da cosa è costituito? Da 1, 2, 3 e 4 carboni, che sono numerati rispettivamente beta, gamma, delta, epsilon, in ordine dal carbonio alfa. Legato al carbonio epsilon, abbiamo un gruppo che prende il nome di gruppo amminico. Questo in verde è il gruppo amminico. Il gruppo amminico, NH2, perché è particolare? È un gruppo particolare, è un nucleofilo, perché contiene un doppietto elettronico sull'azoto che non è condiviso. Questo doppietto elettronico sull'azoto non condiviso ha la caratteristica di essere un nucleofilo, cioè di essere libero per attaccare un gruppo elettrofilo. Chi è il gruppo elettrofilo? Il gruppo elettrofilo è il fosforo dell'ATP. Faccio un passo indietro. Come abbiamo detto, la DNA di gasi necessita, come ti ho detto prima, di un cofattore. In questo caso, negli eucarioti è l'ATP. L'ATP, come abbiamo analizzato prima, è formato da una MP, però che è di fosforilato, cioè l'ATP non è altro che l'adenosina, ribosio più adenina, trifosfato. Questi tre gruppi fosfati, covalentemente legati tra loro attraverso legami fosfanidridici, sono numerati come alfa, beta e gamma. Questi tre gruppi fosfati partono, cioè la numerazione dei gruppi fosfati parte da questo carbonio qua, che è il carbonio al 5''. Questo è il 5'', e quindi abbiamo il fosforo in alfa, in beta e in gamma. L'attacco nucleofilo, mediato dal doppietto elettronico libero dell'azoto, avviene sul fosforo in alfa, con la liberazione di un gruppo pirofosfato, due fosfati legati assieme, e fondamentalmente la rottura di un legame fosfo-anidridico. Se non ti è chiaro per ripassare un attimo, che cos'è un anidride? Un'anidride è fatta così, hai due gruppi carbonilici, un legame covalente sigma tra il carbonio e l'ossigeno, e un altro legame, di nuovo, tra l'ossigeno e il carbonio. Questo è un legame anidridico. Se tu invece di avere il carbonio hai il fosforo, magicamente diventa non più legame anidridico, ma diventa legame fosfo-anidridico. Ok? Non so come l'ho scritto, scritto... Fosfo-anidridico. Quindi questo qui è la rottura di un legame fosfo-anidridico con la liberazione del pirofosfato. Questi due elettroni in arancione finiscono qua. Vedi? Perfetto. Quindi cosa rimane? Rimane che noi abbiamo legato questo doppietto elettronico, questo doppietto elettronico qua, abbiamo legato con il fosforo in alfa, rimane il doppio legame tra il fosforo e l'ossigeno, rimane il legame tra il fosforo e l'ossigeno carico negativamente e poi tutto il resto lo scrivi. Ok? Ah, qui mi sono dimenticato un ossigeno. Tutto il resto lo scrivi comunque, perché scrivi il ribosio e l'adenina. Come si chiama questa reazione? Nella biologia questa reazione qua si chiama ampilazione, ossia il trasferimento di una molecola di AMP dall'ATP, che è il cofattore, sul substrato, in questo caso la DNA ligasi con l'alisina. Quindi, ripetiamo, questa qua si chiama ampilazione. Allora, questo processo in realtà è un processo che è favorito dal punto di vista energetico. Perché? Perché se tu prendi la molecola di ATP questa è una molecola che ha parecchia si dice tensione intramolecolare. Perché? Andiamo solo a analizzare banalmente i gruppi fosfati. I gruppi fosfati tra loro hanno gli ossigeni che sono legati al fosforo che sono carichi negativamente, giusto? Sono fondamentalmente deprotonati. Questi, essendo carichi negativamente, interagiscono tra loro e si respingono tra di loro. Giusto? Perfetto. Creando quella che prende il nome di tensione intramolecolare perché è dentro la molecola. Se io vado a rompere questo legame fosfanidridico cosa succede? Libero due fosfati che avranno una tensione minore rispetto a questa qua. Perché? Io avrò soltanto due ossigeni a questo livello invece che tre. Giusto? Bene. Lo stesso vale ovviamente per la MP che non ha in mezzo alle palle altri due fosfati, fosforobeta e fosforogamma. Quindi cosa succede? Succede che la molecola di pirofosfato è molto più stabile, c'è molta meno tensione rispetto all'ATP. Per quello la molecola di pirofosfato è più stabile. Ok? Bene. Questo processo qua prende il nome che dicevo di ampilazione. Se vuoi si può anche dire come processo di adenilazione, comunque il trasferimento di una molecola di MP. Cosa succede al nostro azoto? L'azoto della lisina che ha attaccato il fosforo in alfa diventa protonato. Si protona e basta. Questo si protona perché lui vediamo un attimo il silazoto fa parte del quinto gruppo e quindi lui può formare non avendo il tetto espanso tre legami covalenti. Lui prima già ne formava due con i due idrogeni, uno con il carbonio epsilon e quindi aveva il suo doppietto elettronico libero. Lui si è trovato a dover attaccare il fosforo in alfa e quindi adesso lui forma quattro legami ma fa parte del quinto gruppo quindi lui tre legami può formare formandone quattro diventa carico positivamente. Quindi abbiamo formato un intermedio nella tappa 1 che si chiama AMP lisina. Molto bene. Vediamo la tappa 2. Nella tappa 2 interviene adesso che cosa? Interviene la nostra molecola il DNA. La DNA interviene il DNA con una rottura a singolo filamento in questo caso perché per esempio la DNA ligasi in questo caso mettiamo in caso sia la DNA ligasi 3 che deve riparare un'interruzione a singolo filamento. A questo punto che cosa succede? Sai che noi in un'interruzione come ti ho detto prima in un'interruzione a singolo filamento abbiamo due estremità la 3' OH quindi che rappresenta l'OH del desossiribosio e il 5' fosfato. A questo punto che cosa succede? La nostra AMP lisina viene attaccata dal 5' fosfato dal fosfato il doppietto elettronico sull'ossigeno va ad attaccare il fosforo alfa questo qui che cosa succede? Libera questa cosa porta al fatto di liberare il nostro DNA ligasi perché il fosforo lui può formare questa volta 1, 2, 3, 4, 5 legami al massimo lui ha lo tetto espanso il doppietto elettronico del fosforo al 5' della molecola di DNA attacca il fosforo in alfa e quindi lui può fare solo una cosa può andare a liberare visto che entra in gombra questo doppietto elettronico lui va a rompere il legame tra l'azoto e il fosforo a questo punto liberiamo quindi che cosa? La DNA ligasi la DNA ligasi si libera e l'azoto quindi fondamentalmente riceve di nuovo i suoi elettroni indietro e siamo a posto perché lui ritorna così quindi si libera nell'ambiente ed è pronto per una nuova reazione è pronto per essere di nuovo ampilato allora quindi questa seconda tappa si può tradurre come un trasferimento della MP sul 5' fosfato qua ho sbagliato perché ho scritto trasferimento sull'ossidrilo in 3' ovviamente no ma sul 5' fosfato capirai perché è importante quindi a questo punto ci ritroviamo così il fosforo che ti disegnerò in blu facciamo così anzi un altro colore ok questo fosforo qua è lui abbiamo l'ossigeno che invece è questo qua in verde che vedi che forma un legame sigma con gli due elettroni in blu sono questi qua i due elettroni in blu formano un legame con il fosforo alfa questo il quale mantiene il suo doppietto elettronico e l'ossigeno verso il basso lui è legato poi a un carbonio al 5' e di nuovo poi abbiamo il ribosio e la adenosina all'adenina a questo punto a questo punto si siamo è la fine abbiamo legato la mp al fosfato al 5' adesso quindi la mp si comporterà come un ottimo gruppo uscente living group in inglese quindi sarà una molecola molto stabile nel quando liberata nell'ambiente questo quindi permetterà di il fatto di aver attaccato un ottimo living group sul 5' fosfato ci permetterà di far sì che possa avvenire la reazione del legame fosfo-diestre quindi avremo l'attacco nucleofilo del 3' H sul 5' fosfato con la liberazione di una molecola di AMP adenosina monofosfato nell'ambiente quindi cosa succede si libererà questa adenosina monofosfato e si formerà quindi questo legame qua di questo legame fosfo-anidridico ok tutto qui quindi questo è quanto abbiamo tre tappe la prima tappa è l'adenillazione in cui trasferiamo o ampi l'azione in cui trasferiamo una molecola di AMP dalla TP o dal NAD+, sulla lisina la seconda reazione è il trasferimento della AMP dalla lisina sul 5' fosfato e la terza tappa invece è il legame del 3' H l'attacco nucleofilo del 3' H sul fosfato al 5' che è elettrofilo con la liberazione del living group che è la AMP quindi la DNA ligasi il processo di ligazione del DNA che può avvenire nei casi della replicazione del DNA nella riparazione o nelle ricombinazioni per esempio quella VDJ è un processo che spreca ATP quante? una molecola di ATP per ogni legame fosfo-anidridico creato se tu volessi vedere il processo del NAD+, in realtà è uguale è uguale perché se tu ci pensi il NAD+, sta per nicotinamide adenine di nucleotide cosa vuol dire? vuol dire che tu hai due nucleotidi legati insieme quindi fondamentalmente nella reazione con il NAD+, succede che hai il NAD+, che viene attaccato e fuoriesce una molecola di NMN ok? nicotinamide mononucleotide e quindi tu hai semplicemente uguale l'ampilazione quindi il processo è identico con la fuoriuscita di un diverso gruppo invece del pirofosfato hai la fuoriuscita del nicotinamide mononucleotide ma non cambia niente grazie a tutti